Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi, in vista del calciomercato il Milan potrebbe sfidare la Juventus cercando di, soffiare, ai bianconeri un obiettivo per la difesa. Il calciomercato non si ferma mai e con la pausa per il mondiale che si avvicina i club iniziano a pensare a come poter rinforzare le proprie rose. In casa Juventus visto l'inizio di stagione complicato alla Rosa di Allegri servirebbe qualche nuovo arrivo per colmare le lacune presenti. Il Milan invece vuole continuare a vincere, ma soprattutto in difesa servirebbe qualche innesto. La Juventus ha messo nel mirino un obiettivo classe 2001, ma il Milan sembrerebbe pronto a inserirsi e soffiarlo ai bianconeri. Parte la sfida per il centrale difensivo, calciomercato Juventus, inserimento del Milan per Pavlovich, parte la sfida. Servono rinforzi in difesa per la Juventus. La retroguardia bianconera stricchiola e col futuro di Volucci incerto si inizia a pensare a possibili rinforzi che possano assicurare il futuro. Uno di questi sembrerebbe essere Strainia Pavlovich, difensore del Salisburgo classe 2001 che si sta mettendo in evidenza anche nel girone di Champions League dove c'è anche il Milan. Proprio i rossoneri potrebbero diventare la principale antagonista della Juventus per il colpo in difesa. Anche la squadra di Pioli infatti in difesa avrebbe bisogno di nuovi innesti, così il Mirino potrebbe spostarsi proprio su Pavlovich, sfidando la Juventus per il promettente classe 2001. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.